I meri contenuti di questo materiale didattico sono offerte da terze parti in una TIC1000 e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprende questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e TIC1000 non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Se le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TIC1000, a meno che non sia stato specificato. Avvertenza sul rischio, i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdere denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti dei clienti al dettaglio perdono denaro facendo training con i CFD, rispettivamente con TIC1000 UK LTD e TIC1000 Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona i CFD e se puoi estonare l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, questo è il terzo e ultimo appuntamento con lo Sprint Trading con Fabio di PIP Trend Academy. Questa sera andremo a fare un po' di esempi operativi e tra poco passerò lo schermo a Fabio. Prima di entrare nel vivo faccio una breve presentazione del broker che rappresenta TIC1000, un broker non di Lindesk, che significa che il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, regolamentato dall'FCA UK, quindi sotto ESMA, con fondi segregati separati dalla società, assicurati fino a 85.000 sterline e protezione del saldo negativo. Non ci sono recuote, nessuna limitazione sulle strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportuno come uno scalping e l'arbitraggio. La velocità di esecuzione è ultra rapida con una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero con commissioni tra le più basse del mercato, non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è un po' una mappa dei server di TIC1000, quello più importante è Londra, Nord Virginia, Tokyo, poi ci sono gli altri di backup. E potete comparare in qualsiasi momento le condizioni di TIC1000, quindi spread e commissioni con altri broker, e noterete dal sito di Sterling MyFxbook come per la maggior parte del tempo gli spread e le commissioni di TIC1000 siano tra le più basse rispetto ad altri competitor. Grazie a queste caratteristiche per due anni di fila TIC1000 è stata premiata come miglior broker per esecuzione e ordini. Questo signore, lo vedete qui con il premio, è il CEO di TIC1000, Duncan Henderson. E grazie un po' anche a questi risultati abbiamo avuto comunque delle metriche finanziarie molto interessanti, nonostante appunto ESMA e ovviamente la diminuzione della clientela europea. Allora, io ho finito con la presentazione, però prima di passare la palla a Fabio, volevo farvi vedere dove andare a vedere i primi due appuntamenti che abbiamo fatto insieme a Fabio, dove abbiamo parlato già di spread training, magari ci ha assimilato un feedback per chi già ha visto i primi due webinar, magari per chi è con noi per la prima volta su questo tipo di argomento, così vediamo di regolarci insieme a Fabio se fare un'introduzione, può passare direttamente ad esempi operativi. Comunque, per vedere i primi due webinar andate sul canale YouTube di TIC1000, quindi TIC1000 c'è una serie di playlist, visto che TIC1000 opera a livello globale, ci sono in tutte le lingue, quello che a noi interessa sono i webinar in italiano, quindi cliccate su Webinar Italia e ci sono sulla destra diversi webinar, quello con lo spread training l'abbiamo fatto il 24 marzo 1, e poi non mi ricordo l'altra data Fabio, però dovrebbe essere, abbiamo fatto verso aprile, quella dell'8 aprile, quindi sono due appuntamenti dove trovate le registrazioni, e quindi potete vedervelo con tranquillità. Ok, allora Fabio io ti passo sia la parola che il monitor, quindi dovresti adesso essere in grado di condividere il monitor. Confermatemi se l'audio si sente bene, perfetto. Quindi partiamo subito, la presentazione la lascio come dicevi tu, ormai dovremmo essere conosciuti. Lascio solo questo nuovo canale che è quello Telegram che abbiamo aggiunto, che è PIP Trend Service, quindi abbiamo aggiunto un canale in più, un gruppo in più sul canale Telegram, proprio per dare un'assistenza riguardo allo spread training, quindi chi riceverà poi i software e quant'altro. Su questo canale abbiamo messo anche dei piccoli video di registrazione per la configurazione del semplice salvataggio file, dalla posta elettronica fino all'inserimento della MetaTrader, fino all'utilizzo dei parametri e cosa servono i parametri, come si impostano i parametri dei nostri indicatori, dei nostri expert, quindi sono varie guide in vari passi, poi ne metteremo anche altre, giusto per avere poi un servizio a 360 gradi. Detto questo... Infatti Fabio, quello che ti volevo dire è che dalla chat ci sono già molti clienti di TICMIL che hanno optato per gli strumenti dello spread training, quindi hanno visto anche i primi due webinar, quindi magari poi quando fai degli esempi operativi fai vedere anche un po' le variabili che tu utilizzi e anche il famoso pannellino di gestione, in maniera tale che fai vedere anche un po' come si utilizzano le variabili esterne, perché sono un po' quelle le domande che mi sono state fatte anche prima del webinar e quindi anche via email, se possiamo dedicare anche qualche minuto a quell'aspetto. Abbiamo già i video, però in realtà i parametri poi sono da utilizzare sono veramente pochi, quindi è veramente molto molto semplice. Il webinar per la mattina, ho fatto vedere delle variabili e delle presentazioni di quello che sono i parametri che si possono ottenere con lo spread training. Volevo puntare l'attenzione a questo 6% che sono le operazioni vincenti, quindi con questo sistema abbiamo un 64,71% di possibilità di avere gain rispetto a un 35% di perdita. Questo per dire due cose, uno che comunque per quanto sia performante lo spread trading non è un'operatività che ti permette di fare un gain al 100%, quindi non fa 10 operazioni su 10 buone. Due, che adesso facciamo degli esempi tradici, questo il 64% che vi dirò adesso. Questo per dirvi che il 64% è comunque un'operatività semplice, senza pretese, senza dedicare otto ore al grafico e senza ottimizzazione di nessun tipo, quindi il 64% è come se fosse uno zero, da lì possiamo solo salire e... si può salire e quindi portarlo 70, 75, 80%, quindi per non saperne leggere e scrivere si parte da un 65% di profittabilità e quindi veramente un sistema molto molto interessante. si va a mettere in leg 1 la prima valuta che noi vogliamo analizzare, in questo caso facciamo un dollaro contro l'audio SD, quindi mettiamo in leg 2 l'audio SD e poi gli unici parametri interessanti potrebbero essere uno che è la tempistica con la quale lo spread va a influenzare la lettura del grafico, più veloce o più lento, questo potrebbe essere interessante per chi lavora con i frame più corti mettere un valore più basso, per chi lavora con i frame più lunghi mettere un valore più alto, adesso c'è la 16 che sto lavorando su una 1, quindi una media. Spread begin è un parametro che dà il numero di candele di lettura, quindi se uno vuole fare un test un po' più indietro nel tempo può andare di default ai 500, io adesso facendo dei test l'ho allungato un po', di modo che crea uno storico un po' più indietro nel tempo, di modo che possiamo andare a analizzare con più opportunità il mercato passato e basta, tendenzialmente sono questi, c'è lo spread level che ci permette di abilitare degli alert, che sono questi, email, pop, push, quindi in base al livello di allerta che noi vogliamo mettere al sistema, possiamo dire al sistema quando arriva a questo livello mandami un avviso di modo che se io non sono davanti al PC posso con questo farmi mandare degli alert via mail, via pop, push e farmi mandare dei messaggini sul telefonino piuttosto che di modo che posso arrivare a un livello, quindi ancora prima che arrivo al livello io punto il livello che voglio monitorare, glielo do al sistema e il sistema mi avviene con dei semplici alert. Questo poi vi consiglio di guardare il video che è un po' più dettagliato, però diciamo che questo deve essere la base per far funzionare il sistema. in quello che è lo storico. Vi dico già che dall'ultimo webinar, che tu mi hai detto che era del 8 aprile, per il 22 abbiamo 48 pip che vedete qua sull'eurodoppio, in quanti giorni abbiamo fatto quasi altri 600 punti, semplicemente con quel 65% quello grigio centrale. A questo ondamento rispetto alla mediana blu che va verso l'alto o verso il basso, quando va in una zona, chiamiamola di per comprato, quindi quando tocca la banda alta andiamo a fare un sell, quando tocca la banda alta andiamo a fare un buy. Questa è la procedura standard che rispecchia il 65%, quindi sell, buy, sell, buy, sell. In questo caso abbiamo per esempio due volte il tocco dell'alene superiore e andiamo a fare un altro sell, quindi andiamo a mediarlo per attività, andiamo a fare poi un buy, un sell e così via. Questo ci ha prodotto questi 408 punti, quindi abbiamo messo il 208, e quindi abbiamo due punti e quindi abbiamo messo il 208, e Fabio ti devo interrompere, purtroppo perché ci sono dei problemi con l'Avi, ti sentiamo attratti. Forse hai qualche applicazione aperta se riesci a chiudere il più possibile. Tutto chiuso, Skype, Telegram. Perché ti sentiamo un po' attratti. Comunque il concetto è chiaro, praticamente tu vai a fare lo spread tra le due valute in base al tocco della banda superiore e inferiore. Ci sono alcune domande che se vuoi te le giro già. Domande, perché tanto è molto semplice, ho degli accorgimenti per una sorta di ottimizzazione delle uscite, ma avendo questa strada... Purtroppo non mi senti. Io ti sento bene. Allora, ti sentiamo attratti, quindi non riusciamo comunque però a seguire un po' il tuo discorso che facevi. ti giro le domande. Senti? A tratti. Io, magari per la mia linea, non ho altri applicativi aperti, ho tutto chiuso, quindi non penso... Chi è il tuo gestore? Bene, come linea. Non dovrebbero esserci problematiche. Fino adesso ho tradato tranquillamente... Chiuso Telegram? Chiuso Telegram, chiuso Skype, non ho... ho solo il webinar aperto e la piattaforma. Ok. Adesso ti sentiamo, quindi dai proviamoci, vediamo... Allare un po' di ritardo. Sì. Allora, c'è Clavio che chiedeva una cosa sul discorso di comprare sulla banda inferiore e poi vendere su quella superiore. Allora dice, da una settimana sto usando il vostro indicatore, mi è capitato di comprare lo spread quando il prezzo era in basso della banda e chiuderlo quando era in alto della banda. Nonostante questo, lo spread ha chiuso in perdita. Com'è possibile? Allora, ci sono due o tre spiegazioni. Queste cose, infatti, avrei detto nel canale Telegram che avrei parlato di queste cose proprio stasera. Non so se è questo l'esempio specifico, comunque lo prendo, perché comunque è un esempio come questo che mi è stato richiesto. Quindi, banda inferiore, c'era un buy, si va a comprare e l'euro dollaro in questo caso scende e mi dà un negativo di 64 pip. Qui, se sopra faccio un buy, dovrei fare un sell, mi sale e mi dà un negativo di 98 euro. Quindi, in questo caso, lo spread sta andando male. Non so se fa riferimento a questo esempio o ad altri, comunque questo vale anche per gli altri. No, la linea teorica, la linea generale. La linea generale è la stessa cosa. Quindi, io faccio il buy, mi va contro sia uno che l'altro e quindi ho una perdita. Le due o tre considerazioni che si... Lo spread o lo lasci... Cioè, se vada sulla banda superiore e tu hai comprato sulla bassa, poi arriva sulla superiore e sei comunque in perdita, lo chiudi e fai il reverso oppure provi a recuperare e a lasciarlo correre? Allora, ci sono varie considerazioni da fare e sono praticamente, spiegando questa cosa, spiego tutto lo spread, perché innanzitutto questo spread non sarebbe stato da fare e dopo vi do le due motivazioni. Me lo tengo per ultimo. Già in questa fase di salita, quando io sono qui e tocco la mediana, dovrei avere uno spread in salita, quindi positivo. Se mi accorgo che salendo io ho tra l'operazione primaria e la secondaria un negativo, ho già un'incongruenza, quindi già qua lo spread dopo dieci candele mi dice, guarda, stai salendo, in realtà io ho un negativo di saldo, vuol dire che c'è qualcosa che non va e quindi lo spread mi avvisa dicendo, guarda che dovresti salire, ma il mercato non sta andando dove devi andare tu, quindi c'è qualcosa che non va, quindi già potenzialmente io qui avrei un segnale di stop. Generalmente ho due tipi di stop, comunque, uno a prezzo, quindi investo 10 euro, metto, non so, uno stop di 30 euro, quindi faccio un rapporto uno a due, uno a tre, rispetto a quello che voglio guadagnare, se nella mia operatività voglio puntare a 10 euro di profitto, metto uno stop a 30 euro e quindi quando arrivo a meno 30, io dove sono, chiudo l'operatività e comunque il caso estremo è dove io ho l'operazione opposta, devo per forza chiudere l'operatività perché è un segnale completamente opposto, quindi dove sono, sono, chiudo e porto a casa. Quindi queste sono due considerazioni da fare, una preventiva qui e una quando sono sull'opposto, vado a mediare, come dicevo prima, nel caso, in questo caso ad esempio, vedete un altro buy, quindi vado a mediare facendo un altro buy, un altro sell, la mediazione ne faccio al massimo tre e come mediazione parlo di mediamente un conto da 10k, uno 0, 0, 1 di apertura, quindi apro un 0, 0, 1 qua, apro un 0, 0, 1 qua, faccio al massimo tre mediazioni, quindi tre aperture e non nello stesso giorno, quindi quando ho fatto il primo ordine aspetto almeno il giorno successivo per fare la seconda mediazione, se capita, quindi ho dei parametri abbastanza, abbastanza larghi e in questo caso, vedendo questo spread, sarebbe andato in negativo. Le due considerazioni che ti posso dare in più sono, uno, rispetto a questo esempio, ma il 9 esempi su 10 di quelli che mi hanno chiesto in chat e la risposta è la stessa, questo spread non sarebbe stato da fare perché se io vado a vedere lo spread in H1 o un buy, se questo spread lo vado a vedere in daily, e lo zoom un attimino, eravamo qui, lo spread era questo, vedete che ho uno spread completamente opposto, quindi ho sell, quindi è vero che dall'altra parte un H1 che mi dice buy, ma ho contro uno spread daily che mi dice sell, quindi sto andando contro a uno spread più alto e quindi potrebbe essere da non fare o perlomeno avrei fatto sia l'H1 che il daily, quindi avrei perso sull'H1 ma avrei guadagnato sul daily, questa è la prima considerazione da fare. La seconda, mi potresti dire, sì, così è facile, perché lo sai, la seconda, questa situazione da fare la vedo a occhio, però se andate a controllare, adesso ho chiuso internet, quindi non lo riapro perché magari se adesso mi sentite bene non vorrei che magari era internet che mi dava problemi, ma si vede anche a occhio, se andate a controllare il 15.4 alle ore 20, la correlazione tra Euro SD ed Euro GBP, vedete che era, adesso non mi ricordo se era negativo o addirittura zero, comunque ballava sicuramente sotto il 50%, quindi avendo una correlazione bassa questo spread non sarebbe stato da fare e lo si vede anche graficamente perché se tu prendi in esame la parte di grafico in questa fascia sale, nello stesso periodo l'altra valuta scende, quindi sono scorrelate, perché se sono correlate, se una sale, l'altra deve salire, se una scende, l'altra deve scendere, in questa fase scende, nello stesso periodo l'altra vedete che sale, quindi io già, non solo qui, io già qui mi ricordo che c'è una scorrelazione tra le due e me lo confermerà MyFXBook di sicuro. Detto questo, se fai, questa è l'operazione che mi hanno segnalato come negativa, ma se tu, nonostante questa scorrelazione, nonostante questo essendo diciamo un sell, quindi a favore del trend più alto che abbiamo visto che era daily, se noi andiamo a aprire l'operazione qua e l'andiamo a chiudere qui dove c'è il buy e andiamo a fare la stessa cosa con questa, quindi apriamo questa operazione, anche se inizio a avere una scorrelazione in questo momento, questa operazione mi dava un sell, mi dava 42 punti di profitto, se qui è un sell, qui un buy, qui ho 11 punti di profitto, quindi comunque avrei portato a casa un 50 punti di profitto con un'operazione che iniziava a darmi scorrelazione, quindi questo per far vedere che lo spread non è che se io qui ho la correlazione alta o bassa mi cambia la vita, ci ha messo da qui a qui, quindi adesso non so esattamente dove iniziato a scorrelazarsi, però diciamo qui, magari anche prima, ci ha messo almeno 25, 30, 35 ore prima di darmi la negatività sulla correlazione, quindi avevo 30 ore di tempo per capire che questo era scorrelato, avrei fatto magari quest'operazione che si vede che non è correlata e me lo confermo a MyFxBook, avrei fatto comunque un game, poi magari questa non l'avrei fatta per i due motivi che ho detto, quindi questa era un'operatività da non fare, le due regole da seguire sono poi solo quelle, correlazione, ma in realtà metti solo correlazione, anche se, ritornando ai discorsi prima, questa operatività che ho fatto con i 100 punti di qua e i 166 punti di qua, li ho fatti seguendo due regole base, quindi sell dall'alto, buy dal basso, sempre, quindi chiudo, apro, apro, chiudo, apro, chiudo, e non ho mai neanche guardato la correlazione, quindi in mezzo a questo gruppo e si vede qua ad esempio, ho un più 93 e un meno 154, questo magari era un trade che avrei potuto saltare per qualsiasi degli altri motivi e questo saltandolo mi avrebbe alzato quel 65% in 70, 75, 80%, però anche senza farlo, anche senza guardare le correlazioni, anche senza guardare il dettaglio, partiamo da un buon 65%, questo è il bello dello spread. a mio avviso come è il livello di correlazione, che percentuali inizi a guardare, superiore deve essere una correlazione positiva del 70% in su sempre bene, più è alta meglio è e se uno non vuole guardare le correlazioni consiglio anche per un'operatività come in questo caso H1 prima di fare l'operazione in H1 ad esempio questa l'ultima sta andando bene ma adesso ieri ne ho chiusa una più 71 meno 29 quella che ho aperto adesso mi sta andando contro ma perché perché io ho fatto un'operatività questa qua che è in sell mi sta andando contro ma perché il daily hai aperto un buy su euro dollaro e un sell su audiusd giusto? esatto mi sta andando contro infatti vedi che sta scendendo e il sell sta andando su ma perché ho fatto questo buy non perché ho questo segnale che avrei dovuto fare sell e qui da qui infatti l'ho segnato meno 29 più 54 quindi in H1 avrei fatto un gain perché l'operatività che sto facendo è quella daily quindi ho aperto perché vedi che lo spread è andato giù e mi sta dando e mi è rientrato ho saltato questo primo segnale è risceso è riandato su e qua sono rientrato in buy quindi sono in buy spread con l'ottica daily che chiuderai sulla mediana blu giusto? sulla mediana blu lo monitorerò vedrò come è messo se va male vedo come gestire la situazione vedo se stopparmi o meno ma generalmente aspetterò il segnale contrario quindi aspetterò che questo arrivi qua in cima sul rosso chiuderò questo butto il buy e ad esempio metti che siamo qua abbiamo aperto il buy sale 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 quando taglia verso l'alto chiuderò l'operazione quando ritaglia verso il basso andrò a riaprire l'operazione opposta e così via quindi qua non ho chiuso qua il sell questo sell l'ho chiuso qua ho aspettato e rientrato l'ho saltato però vedete che lo spread mi dà altre opportunità e sono rientrato qui e adesso sto aspettando questa che è un'operatività che considero di qualche giorno certo è che ad esempio come in questo caso sull'h1 io metto insieme le due cose e dico ok in h1 ho questa operazione sell l'ho rischiata l'ho fatta e ho guadagnato però adesso qui non mi ha ancora toccato se questo dovesse scendere io potrei anche fare un'ottima operazione in h1 perché sono sicuro che il daily mi sta già dando un buy e questo h1 buy mi sarà andrà a essere spinto dal daily che mi spinge anche e quindi avrò due operazioni nella stessa direzione e quindi sono sicuro che l'h1 andrà più velocemente in gain perché ho un daily che mi spinge quindi andrei a fare sostanzialmente un'operazione un'operatività in multi time frame giusto? esatto e non solo questo era per dire che se uno vuole guardare le correlazioni prima di fare questo sell o prima di fare questo buy si sposta sul daily vede come è messo lo spread quindi nella fascia in cui lo spread è sell se non vuoi fare l'operatività daily perché è troppo lunga consiglio di fare un'operatività diciamo da qui che è il giorno 24-3 quindi dal fine di marzo fino al 14-4 quindi fino a qualche giorno fa in questa fascia qua mi sposto in h1 e farò solo spread sell quindi farò questo in sell questo buy non lo faccio farò questo in sell e questo buy non lo faccio quindi andrò a usare il daily come filtro per avere per alzare quel 65% e avere un'opportunità maggiore di avere operazioni a profitto e poi questa questo tipo di operatività dove la vai a monitorare sul pannellino giusto? sul pannellino il pannellino che faccio vedere eccolo qua anzi adesso possiamo anche se vuoi aprire un'operatività così a parte che adesso abbiamo altri webinar quindi non avremo modo di verificare se funziona o meno comunque magari se riesci a fare qualche esempio anche su time frame bassi magari un non so un 30 minuti facciamo qualche esempio io nel frattempo ti leggo qualche altra domanda sì infatti Davide chiede quali sono i time frame migliori? dipende dall'operatività che vuoi fare io mediamente minimo minimo H1 appoggiandomi come abbiamo detto sul daily quindi in concordanza col daily visto che mi hai fatto la domanda ti faccio vedere che su un time frame daily questa è un'operativa euro yen contro usd yen l'operatività chiaramente è più lunga però i profitti non sono 10 20 30 ma sono 180 punti e 106 punti ecco un'altra cosa bella dello spread come in questo caso sono andato a prendere un'operatività che la seconda operazione che doveva essere una copertura della prima quindi dovrebbe essere un negativo come questo più 380 meno 16 quindi quello che dovrebbe essere la mia copertura in realtà va a essere un guadagno quindi vado a fare un doppio guadagno più 180 e più 106 quindi vero con un'operatività un po' più lunga sul daily ma è più tranquilla e guadagno molti più punti ovviamente qui addirittura qui in pochi giorni mi è capitata questa che in 10 giorni ho fatto 564 punti qua e ne ho perso 88 quindi 450 punti in 10 giorni con un'operazione sola in realtà sono due però dobbiamo considerarle come una sola quindi un'operatività molto molto tranquilla ma molto molto profittevole ok Mario chiede volendo lavorare in H1 guardi ogni ora la tabella correlazione di MyFXbook oppure ad orari stabiliti generalmente no perché guardo la correlazione la correlazione si cambiano molto in fretta se guardate l'H1 in qualche ora potrebbe fare 4 ore su e 4 ore giù quindi molto molto in fretta generalmente guardo la correlazione daily anche lì lì dipende ma generalmente vedo che quando la correlazione daily si sposta sopra il 70% ci mette un po' di tempo nel senso che comunque ci mette 10 15 20 giorni prima di ritornare giù perché dal 70 tendenzialmente sale magari va 80 90 e poi scende quindi ora che sale e ora che scende ci mette tranquillamente 15-20 giorni quindi mi dà la possibilità di fare l'operazione e tenere tutto con la massima tranquillità poi se nell'arco della giornata intraday mi sale e scende sopra il 70% o sopra il 70% o un mini buy negativo super attività così tranquille non mi cambiano la vita sostanzialmente perfetto ok nel fratello che tu prepari il diciamo l'esempio operativo allora vediamo che ci sono diverse domande non vorrei aver mancato qualcuno è possibile allora è possibile sapere come è ricavato quell'indicatore credo la formula no credo che comunque ci sia un calcolo matematico che viene fatto ovviamente l'ho detta prima quando è andata via la linea se non l'avete sentita mi spiace mai l'ho detta e non la ripeto non si può dire ovviamente ok poi c'è Claudio che chiedeva cosa indicano le informazioni in alto sul grafico euro-dollaro return forse si riferiva alle variabili esterne no quindi la sequenza non è tenibile sono variabili che poi magari lo metto chiaro così si leggono di più eccolo qua sono praticamente il calcolo dello spread non in tempo reale ma diviso per tempo quindi il ritorno daily dello spread il ritorno weekly mensile trimestrale o annuale questo mi dice come le due valute mi dice velocemente è una cosa mia diciamo non serve per tradare ma mi è comoda perché velocemente io vedo come si stanno comportando le valute quindi vedo che una mi è scesa del 0.45 e l'altra 0.54 quindi in questo caso vedete che sono correlate negativamente perché stanno tutte scendendo non è tanto importante il valore ma quanto una che sale e l'altra che scende vedete che comunque nel weekly per esempio una scendeva e l'altra saliva nel mensile tutte e due scendevano quindi mi fa vedere che queste due si scorrelano molto di frequente quindi magari faccio o vado a cercare altre opportunità piuttosto che se ho tutto in coerenza vedete che si comporta in un certo modo e quindi mi è più facile tradare ma a livello di diciamo tradare nel tempo breve non le utilizzo neanche se guardo ogni tanto per capire come si stanno comportando come dicevo prima vedi dal grafico che sono scorrelate o meno poi se usi MyFxbook perché sei più comodo va benissimo e insomma ci sono vari modi di fare le stesse cose questo è interessante perché visto il momento che siamo un evento storico sul WTI ti chiedono se hai considerato lo spread tra il WTI e il Brent allora noi abbiamo specificato che diciamo il focus sul Forex perché appunto TICMIL ha delle condizioni ottime sul Forex anche sulle comunque comode di indici quindi però questo lo potete utilizzare anche su altri strumenti magari riusciamo a vedere anche così giusto anche per curiosità un po' come se mostro lo spread tra WTI e Brent sì non me lo sono preparato però no proviamo ma non ti prometto niente nel senso che è un po' complicato che non riusciamo a farlo no no non è complicato è che lo spread tra Forex è una cosa e azionario o indice un'altra ma per il discorso che diciamo l'altra volta che ad esempio il Forex ha un rapporto tra le valute di uno a uno mentre il dovrebbe lavorare con quelle sites esatto ci sono delle sites che sono completamente diverse e quindi va un po' in ficciare anche un proprio diciamo anche denominazione dei vari indici anche dei sottostanti perché ad esempio TIC1000 prende il WTI lo spot però altri magari sono basati invece sull'indice future quindi hanno anche scadenza diciamo che adesso non è esattamente quello però si comporta come vedi nello stesso modo in cui si comporta con il Forex quindi in H1 è andato così ho dato un sell qui ho dato un buy qui qua in realtà poi fai una media un'apertura qui però adesso sia sostanzialmente flat se non sbaglio adesso siamo a metà sì in H1 siamo in flat quindi mi dice di non operare sul daily mi sta dando l'eccesso che si vede adesso non so neanche se questa formula è giusta perché come ti dicevo per gli indici abbiamo delle formule leggermente diverse che vanno vedi che è tutto schiacciato il grafico quindi questo grafico non è corretto secondo me rispetto a quello che lo so perché l'ho tradato e non era così quindi sto utilizzando chi lo utilizza può fare comunque un diciamo degli esempi operativi su un conto demo e utilizzarlo esatto è un po' diverso perché le formule sono leggermente diverse anche per il discorso che ti dicevo del calcolo che tra VTI e Brent ci sono dei calcoli da fare perché le proporzioni l'esposizione del mercato deve essere la stessa quindi devono esserci delle proporzioni che vanno per forza stabilite quindi su questa versione non ho il razio però ho l'indicatore del razio che però io direi di tornare però magari sul focus sulle valute Vincenzo a proposito chiede avere almeno quattro coppie è operativamente consigliate per fare delle valutazioni per il buon funzionamento dello spread sì più coppie si usano meglio è perché si va a differenziare il rischio quindi nelle versioni che diamo qui con voi abbiamo solo due valute infatti vedi che il trade manager opera solo con due diciamo che sono step successivi che uno può fare come dico sempre nei video che faccio e anche nel canale l'assistenza bisogna imparare a camminare e poi a correre chiaramente se io vado a differenziare lo spread su quattro valute o su sei valute non vado più come molti mi dicono sempre come mi dicevi anche tu all'inizio se vado a far tradare l'euro dollaro contro l'audio SD in realtà trado l'audio SD in parte potrebbe essere vero ma se io come ti dicevo vado a mettere due tre quattro valute comunque anche trado l'euro dollaro contro CAD Yen non c'è una una valuta che viene creata dall'incrocio di queste due quindi è una valuta completamente virtuale e creare una valuta che tiene in considerazione o meglio uno spread che tiene in considerazione quattro o sei valute differenti significa distribuire il rischio rischio perché magari c'è una notizia sul dollaro che mi fa muovere molto il dollaro però se io differenzio il rischio non su due non su quattro ma su sei l'influenza che mi darà il dollaro su un movimento molto brusco sarà molto inferiore rispetto al tradare solo l'euro dollaro che magari mi spara in su io sono sell e sono completamente fregato quindi lo spread serve sostanzialmente a quello evitare bruschi bruschi movimenti di mercato e lo si vede anche qua per esempio io qua ho perso 98 punti quando in realtà perché sono andato sell e mi è andato su quando in realtà se avessi fatto un sell sarebbe andato fuori di 150 quindi sarei fuori di più di quello che lo spread partendo dal presupposto che è uno spread errato quindi non l'avrei neanche fatto quindi mi avrei abilitato anche questi 98 quindi mi aiuta molto in queste fasi di incertezza di mercato perfetto ok quindi allora vediamo un po' se c'è qualche esempio operativo diciamo anche sull'intraday stretto così facciamo vedere anche come funziona il manager sì ne ho già fatto uno di questo qui ho fatto l'euro sd euro gb perché ho visto che in realtà sono un po' in ritardo perché sarei dovuto entrare qua però vedi che sta scendendo però prendo spunto almeno vediamo appunto di far chiarezza questa cosa noi guadagniamo sul movimento dello spread quindi questo deve andare qua se io ho uno spread tipo qua che è molto stretto io sono molto vicino già alla mediana è un ingresso anche se qua avesse toccato per esempio la banda rossa è un ingresso che non avrei fatto e non sarebbe da fare perché ho poca strada fisicamente non riesco ad arrivare non ho abbastanza punti di guadagno per arrivare fino allo zero e quindi qui sono a metà strada non sono proprio arrivato già a target però ho fatto lo stesso l'ingresso quindi tu hai fatto un sell su euro e un sell su euro sd e un buy su euro gbp quindi direttamente dal pannellino quindi dal manager ho messo ho aperto il pannellino ho messo nei parametri il mio input quindi euro sd euro gbp ho dato l'ok lui mi ha messo euro sd euro gbp ho aperto con i più e meno ho stato a scegliere i lotti ho messo 005 in questo caso quindi sono andato a selezionare il valore dei lotti e ho premuto il tasto open sell perché è uno spread sell quindi barra rossa tasto rosso open sell spread adesso è andato un po' su in tempo reale lui mi ha aperto l'operazione mi ha aperto in contemporanea 20 e 30 20 e 30 chiaramente adesso c'è l'ora di differenza del server comunque mi ha fatto il buy da una parte il sell dall'altra aperto in contemporanea e quello che è il differenziale delle due operazioni è andato a scrivermi da qua quindi adesso ho già un profitto di meno 2 euro quindi adesso tu volessi fare un altro spread se volessi potrei ad esempio andare a mediare ammettiamo che qua la linea fosse tornata su e mi darebbe un altro sell potrei andare a mettere un altro 005 perché come dicevano un martingalo quindi la mediata la faccio comunque dello stesso peso della prima e andrei a premere un'altra volta un'altra volta il tasto open sell premendo il tasto open sell mi va a prendere un altro basket quindi in questo caso 1,70 è già il costo di gestione dell'operazione quindi ero fuori di 2 quindi alla fine ero praticamente praticamente in pari quindi devo prendere il secondo basket nel total profit metto il totale di tutti i basket quindi ho in tempo reale la totalità delle operazioni quindi con un tasto solo posso andare a chiudere tutte le operazioni attive in questo momento o con i singoli close basket posso andare a chiudere le singole operazioni questo mi è comodo perché se io volessi ad esempio tradare adesso sto tradando l'H1 che ha un sell se nel daily in questo caso è sell quindi sono a favore ma se avessi in H4 in M30 in qualsiasi altro time frame un buy ecco per esempio in H4 un buy potrei andare a fare la stessa cosa dico ok magari in H4 anche stessi lotti ho un buy quindi vado a fare buy open spread mi va a prendere un basket track quindi prende il primo disponibile va a aprire l'operazione eccola qua buy va a aprire l'operazione buy quindi avrò dei buy dei sell mischiati ma il pannellino mi distingue velocemente quindi ho il basket non mi interessa sapere se questo è buy o se questo è sell l'importante è sapere che quando sono a profitto chiudo l'operazione ed esco anche perché nel pannello in realtà così a profitto per far vedere i vari parametri ho il profit 1 profit 2 profit 3 che rispecchiano basket 1 basket 2 basket 3 quindi posso andare a scegliere basket per basket quello che è il mio profitto ad esempio il basket 1 l'ho fatto in H1 quindi posso puntare a 10 euro il basket 2 l'ho fatto in H1 posso puntare 10 euro il basket 3 l'ho fatto in H4 quindi magari un periodo sicuramente più lungo ma anche un profitto un po' più lungo quindi posso magari puntare a 20 25 30 euro quindi imposto il mio 30 euro qua fatto questo do l'ok il mio sistema non dovrò andare a toccare più niente chiuderà quando arriva 10 euro il basket 1 quando arriva 10 euro il basket 2 quando arriva 30 euro il basket 3 oppure se arriva un totale di 10 euro positivi 20 euro positivi o 100 euro positivi in base a quello che imposto ho anche il valore close basket quindi ad esempio il close basket è questo profit qua in cima quindi non so mediamente punto a 50 euro totali di profitto mi accontento di 25 euro globali io metto 25 su total do l'ok se in questo caso il totale dei profitti mi arriva più 25 quindi il mio total profit arriverà più 25 euro chiuderà contemporaneamente i 3 basket quindi non devo neanche controllare i singoli basket li ho impostati o le mie operazioni a mercato quando arrivano a profitto vengono chiusi in automatico quindi perfetto ho anche la domanda di Gianluca che ti chiedeva se avevi previsto un comando che chiudesse tutti i basket una volta raggiunto un profitto quindi l'hai fatto appena vedere Paolo chiede se volessi aggiungere un terzo basket su coppie diverse come si fa e visto che c'è anche una domanda molto attinente su questo vogliono vedere un po' come sta andando il basket tra euro dollaro e euro yen se poi è una coppia che tu utilizzi per lo spread sono coppie diverse che utilizzi per lo spread non uso ma la guardiamo per fare più pannelli basta utilizzare il parametro magic number che è questo qua me l'ho messo qua nei commenti comunque il magic number deve essere un multiplo di 10 quindi andrò a aprire un altro grafico metterò in questo caso vedete un altro basket qui ho l'euro dollaro contro l'euro gbp qui ho l'euro sd contro l'audio sd vedete che c'è un giallo dell'operazione aperta di euro dollaro quindi questo basket mi controlla quelle operazioni questo basket mi controlla le altre operazioni e sono completamente indipendenti basta che io qua metterò magic number 100 d'altra parte 200 sul terzo 300 e così via quindi potrò avere 10 grafici con 10 manager diversi che gestisce ognuno 10 basket per ogni coppia di valute con i singoli profitti con i singoli close con i singoli profit e col profitto globale diverso io qua posso impostare 10 euro perché magari sto tradando questa coppia in H1 e trado in daily appunto a 50 euro quindi posso distanziare e differenziare i singoli profitti perfetto e quindi su euro dollaro euro yen magari riusciamo a dare un'occhiata si vediamo velocemente allora mettiamo l'euro yen per vedere come si comporta anche se in realtà non ci importa in H1 H4 daily beh vediamo un po' basta fare non l'ha specificato però credo forse vediamolo un po' su quello che fai di solito su daily e poi H1 apriamo l'indicatore mettiamo euro osd come prima valuta euro yen come seconda valuta lo spread verrà ridisegnato in automatico eccolo qua quindi adesso nella condizione H1 siamo praticamente fermi perché siamo proprio a metà avevamo un buy qua che stiamo aspettando vediamo in che condizioni è quindi avremmo fatto un buy qui e saremo in attesa di operatività perché non abbiamo ancora l'uscita vediamo quando eravamo magari sulla mediana a che punta eravamo giusto per capire se avevamo un buy qua avevamo un sell di qua quindi il buy di euro yen di euro sd faccio su close la candela per comodità il buy mi sta dando contro di 37 punti quindi siamo a meno 37 se sopra facciamo un buy sotto facciamo un sell il sell mi sta dando un profitto di 49 punti quindi sarebbe già in attivo ecco in questo caso per esempio come abbiamo visto lo stop che quando arriva sulla mediana lo valuto quando arriva al contro lo valuto in questo caso se avessi usato un lottaggio abbastanza alto per portare a casa 10 punti di profitto 10 punti di profitto in H1 li porto a casa quindi non sto a guardare il 10 euro 20 euro 30 euro o che questo arrivi dalla parte opposta un'altra informazione utile che posso dare per alzare quel famoso 65% al 70 75% e fare l'operazione 10 punti in H1 li porto a casa vado ad aprire altri spread mi libero il mercato per altre occasioni tanto adesso è un peccato che non ho internet non posso farvi avere MyFXbook ma se guardate su MyFXbook la tabella sopra il 70-80% avete 25-30 combinazioni tranquille da tradare ogni giorno quindi occasioni sul mercato ce n'è tantissime vediamo in D1 in D1 ecco in D1 avrei qualche operazione un po' più indietro in SEL quindi opposta a quella che abbiamo appena visto sommiamola un attimo che magari si vede un po' meglio in Daily avrei un'operatività aperta più o meno qui e sarei in profitto di 96 punti se faccio un SEL qua faccio un BUY qua e il BUY mi sarebbe contro di 70 punti quindi avrei anche qua un profitto di 20 punti come dicevo su un Daily magari punto a un 50 70 punti di profitto mediamente perfetto quindi puoi gestire comunque col pannellino in base anche al profitto monetario che hai inserito Roberto poi chiede su Audi NZD che praticamente è uno spread di Audi USD NZD USD sono correlati tantissimo bisogna andare short cioè vendo Audi USD e compro NZD USD purtroppo continua a salire Audi NZD si riferisce si riferisce al Daily ok il Daily io ce l'ho in SEL è appena entrato guarda due giorni che ha fatto una sgambatina in giù sta rintracciando un attimino però di operatività di lungo periodo il Daily mi sta dando short quindi short Audi USD e long NZD USD ci sarebbe in realtà un'operazione aperta qui un buy qui che avrebbe dato il buy avrebbe dato se chiudessimo oggi mettiamo che ci dimentichiamo di chiudere qua sullo short avrei 580 punti di profitto qua il buy e il sell mi avrebbe dato 280 punti di perdita quindi sono più di 200 punti quindi avrei chiuso l'operatività e mi sta dando un sell se in H1 dovesse avere un'operatività simile sì in H1 ecco qualche ora fa c'era un buon sell da fare che sta già andando a profitto perché in Daily siamo in sell e qui come si vede c'è un sell appena appena siamo a metà quindi diciamo che già non dico bruciato ma comunque ha già fatto i suoi 30 punti di movimento quindi è già andato ad esaurire quello che era l'H1 però ecco questo potrebbe essere una buona occasione da monitorare aspettando che ritorna se si torna su e dare un'altra occasione a sell rientrare sell per aspettare poi l'incrocio successivo come vedi anche qua c'è un'altra occasione se non è su un time frame e sull'altro bene o male si potrà dare spesso l'h1 giusto per curiosità mi dava 28 punti di profitto e qua siamo a 40 in perdita quindi questo attualmente sarebbe ancora ecco per esempio questo è uno spread che terrei d'occhio perché siamo vicino a mediana mi sta dando contro quindi è uno spread che non so la correlazione come è mi sembra buona in h1 si sono correlatissime tra loro quindi direi che è uno spread che come dicevo prima statisticamente ci sta 6 volte su 10 azzecchiamo 3 volte su 10 3 volte e mezzo su 10 perdiamo quindi magari questo potrebbe essere uno spread di quelli che ci va in perdita perché non è che vinciamo sempre non siamo così bravi però tornando al discorso iniziale se io mi perdo 29 punti mi perdo 30 punti mi perdo 29 punti di qua se la somma totale mi dà 408 punti non sto neanche lì a a tribulare sinceramente nel senso che tradando poi solo due valute ecco per esempio meno 154 questo potrebbe essere l'esempio lì dove prenderemo un 154 perdita un 93 di profitto perdiamo comunque 50-60 punti ma se nell'arco del tempo dall'8 aprile oggi sono 12-15 giorni abbiamo comunque fatto 166 punti anche se ne prendo 154 contro o comunque un paracadute che già mi attenua questa perdita di 150 a solo 60 di perdita quindi già un buon vantaggio in più nel lungo periodo non bisogna valutare lo spread sulla singola operazione ma prendete almeno 10 operazioni di fila fate una media e vedete se è un sistema affidabile o meno perfetto allora siamo un po' in chiusura però cerchiamo di rispondere un po' alle domande che ci sono ancora Gabriele chiede c'è una dashboard che segnala i tagli delle linee per aiutare a trovare le opportunità avete pensato magari a fare appunto una dashboard per segnalare eventuali incroci a ribasso a rialzo no ma se prendi questo livello questo spread level che abbiamo visto prima quindi ad esempio io qua metto il mio grafico prendo se vuoi la croce vedo che questo spread va da 1,96 a meno 2,11 per me questo potrebbe essere un livello interessante quindi qua è a 0,51 io nel mio spread level vado a mettere 0,05 ad esempio vedrai che ti compaiono in questo caso no mettiamolo più basso 0,3 non si sa mai eccolo qua compaiono queste frecce rosse non sono tutti ingressi ma questi sono gli alert che mi darebbe quando il livello arriva a 0,3 quindi io oltre alla freccia rossa sul grafico che è un'indicazione che mi sta dando rispetto allo spread level che ho messo quindi gli sto chiedendo al sistema avvisami quando arriva a quel livello 0,3 che per me potrebbe essere interessante infatti vedi che coincide col fatto che va giù tocca la verde però vedi che me lo ho dato già qualche anno della prima già qua mi dice guarda che stai per prepararti con un buy qui mi dà il buy qui mi dà il buy e così via quindi ti lancia l'alert mi dà già l'alert e se io abilito lo spread level mi dà solo la frecetta rossa grafico se vado ad abilitare col true email alert piuttosto che pop alert o push alert mi va a mandare qui addirittura il text mail quindi posso scrivere fisicamente come testo il testo che voglio farmi inviare via mail quindi lui mi invierà una mail dicendomi spread up basket che ne so metto euro dollaro euro usd audi usd quindi mi arriva un email che io so che devo tradare devo stare a tensionare euro dollaro di usd quindi posso scegliere il testo che voglio abilitando semplicemente true or false mettendo nel testo quello che io voglio quindi per ogni basket posso andare a dire addirittura posso mettere è una stringa lunghissima quindi posso mettere h1 h4 quello che vuoi quindi mi arriveranno a mail che mi dice spread up la piattaforma deve rimanere ovviamente accesa cioè questo vale per tutti i discorsi che abbiamo fatto quindi avvisi gestione automatica chiusura 10 punti se la piattaforma non gira tutto non funziona a meno che non comprate una WPS e quindi andate su un server virtuale esterno al vostro pc lo fate girare la piattaforma su questo server quindi non avete bisogno di tenere internet aperto non avete bisogno di avere la piattaforma aperta e quant'altro fa tutto lui quindi perfetto Paolo chiede quindi per il manager bisogna aprire un grafico per basket specificato cambiando se non sbaglio il magic number quindi su ogni grafico poi lo devi impostare quando lo metto inserisco un magic number diverso quindi 200 per quello nuovo do l'ok inserisco altro grafico vedi che come ho cambiato il magic lui ha perso l'allineamento con le coppie vecchie quindi per assurdo potrei tradare ancora le stesse coppie che stavo tradando di là e un usd audio usd utilizzando dei basket nuovi perché ha un magic nuovo e quindi riutilizzo aprendo altri basket quindi posso fare un basket per queste coppie in h1 questo per l'h4 questo per il daily e così via quindi riutilizzare lo stesso basta cambiare il magic number lui perde l'allineamento se rimetto il 100 quindi se lo perdo perché chiudo il grafico o qualsiasi cosa quando rimetto lo stesso magic number se le va a recalcolare si va a prendere gli ordini e vedi che si le va a riprendere adesso per esempio qui abbiamo un profitto di 0,51 su 1 0,57 su questo 0,25 quindi gli spread che ho aperto prima quelli dell'euro usd contro l'euro gbp che sono cambiato che era questo infatti lo spread è sceso sotto la mediana prima eravamo leggermente sopra e infatti abbiamo un profitto 0,45 0,11 vabbè mentre quello che ho messo in buy che era il terzo ovviamente è andato in negativo perché sta scendendo quindi mi sta andando contro però i primi due ovviamente sono in profitto quindi in questo caso 0,45 metto il 0,11 voglio tenere questo un po' più lungo voglio chiudere questo premo close basket mi manderà a chiudere solo il 2 invece dalle variabili hai inserito solo mi chiedono la possibilità di uscire su guadagni monetari o anche punti monetari solo monetari per comodità avendo un profitto abbiamo impostato una sorta di tabellina 2 euro per l'H1 20 euro per lo 0,01 come lottaggio H1 2 euro ti parlo di micro lotti quindi 0,01 quindi con uno 0,01 puntiamo 2 euro di profitto con uno 0,10 puntiamo 20 euro con un lotto puntiamo 200 euro in H1 quindi più o meno corrispondono sempre ai 20 punti di profitto poi dipende dalla valuta se tradiamo come abbiamo visto prima il VTI e il Brent puntiamo almeno all'1% di movimento se non al 2% di movimento del petrolio quindi altri parametri il Vorex è un po' più particolare quindi mediamente 20 punti di profitto sull'H1 e 50-70 sul daily perfetto allora Fabio io direi di rispondiamo a questa domanda su l'Ignaso che chiedeva come determina la coppia di valuta primaria e secondaria e come influisce il discorso dello swap se è un qualcosa che hai notato che dà limitazione alla strategia oppure no non dà limitazione alla strategia perché TICMIL ha degli swap molto bassi quindi non influiscono praticamente nulla in realtà il sistema si è autoadatta quindi tu vai a vedere le correlazioni che vuoi studiare su MyFxbook vedi una correlata positiva la metti nell'indicatore ad esempio qui abbiamo euro osd contro euro yen se tu inverti e metti euro yen contro osd il grafico verrà plottato in automatico al contrario quindi ti darà le istruzioni in automatico al contrario quindi il grafico si è data in base a quello che è la movimentazione della valuta quindi tu verifica che ci sia correlazione una volta che parti da una buona correlazione daily metti indicatore sui grafici e vedi se è il momento di entrare o no quindi se è in laterale così stai fermo se è sotto compri se sopravendi quindi metti vari grafici guarda come si comporta l'indicatore e da lì vedi qual è l'occasione di entrare o meno perfetto Fabio allora io direi possiamo chiudere allora l'esma può penalizzare ma leva 30 comunque sul forex leva 20 comunque abbiamo marginazione ti direi di no per due motivi un motivo l'abbiamo visto prima io qui ho aperto tre ordini di cui due erano in buy e uno era in sell quindi già uno mi va a nullare l'altro avendo un 0.5 da una parte 0.5 dall'altra ho in realtà un edge automatico quindi la leva e la mia esposizione al mercato si diminuisce in automatico quindi per assurdo più ordini apro ho comunque l'esposizione molto bassa e quindi con la leva una 30 anche perché mediamente faccio 2 3 4 spread alla volta non di più quindi la leva una 30 non influisce e mi dà una partita molto molto tranquilla e va benissimo se sono mi dà problemi ottimo ottimo Fabio allora io direi possiamo chiudere qui Fabio chiedono come avere il tutto io comunque mi manderò un'email come ho fatto per i precedenti webinar che potete vedere sempre su TICMIL quindi nelle email vi darò anche un po' le istruzioni per andare a vedere la registrazione inclusa questa sono state diciamo abbiamo fatto tre webinar dove siamo partiti appunto dalla spiegazione dello spread training fino a come attuarlo e poi abbiamo fatto vedere tutti questi strumenti e l'abbiamo concluso con quello di oggi Fabio magari se puoi far vedere i tuoi riferimenti vi dico per i clienti di TICMIL è gratuito bisogna soltanto agganciarsi all'IB di Fabio in maniera tale che appunto abbiate anche lo sconto sulle commissioni del 5% che sono già bassissime tra le più basse del settore però grazie anche a questa partnership con Fabio di PIP Trend Academy avrete lo sconto del 5% sulle commissioni che sono durature nel tempo non ci sono condizioni o altre limitazioni dopodiché dopo aver aperto il conto quindi con l'IB di Fabio vi darò comunque sempre le istruzioni via email richiedete direttamente a lui tutti gli strumenti che avete visto e poi Fabio in base un po' anche alle richieste vi invierà il tool quindi poi per tutte le altre domande sulle caratteristiche o altre informazioni relative potete fare riferimento sempre alla sua email che è mi sono dimenticato qualcosa Fabio assolutamente no il canale per l'assistenza vedremo anche di ordinarlo adesso con questi nuovi video metteremo tutto insieme così uno ha una visione completa di tutto quello che è il sistema in realtà è molto molto semplice bisogna partire con calma e vedere di utilizzare fare un test almeno in lungo periodo non soffermarsi alla piccola operazione che potrebbe essere sbagliata è tutto abbastanza semplice una volta fatta attenzione alla correlazione al resto noi siamo disponibili con vari social e anche tu con le mail e quant'altro per qualsiasi tipo di assistenza quindi insomma non vi lasciamo al caso perfetto perfetto grazie Fabio sono stati tre webinar assolutamente interessanti ho rivoluzionato anch'io lo spread training quindi ti ringrazio per l'ottima didattica che mi fa piacere spero che voi abbiate trovato comunque il tutto interessante dai numeri che abbiamo ricevuto dagli iscritti direi di sì quindi Fabio grazie magari faremo un webinar più avanti chissà però grazie davvero per questi tre magnifici webinar speriamo grazie a te Giuseppe grazie a TICMIL dell'occasione e a presto buona serata a tutti grazie a tutti buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti